Musica Venerdì 15 luglio, San Bonaventura, è il 196esimo giorno, dall'inizio dell'anno ne mancano 169 al termine. Il sole sorge alle 5.36 e tramonta alle 20.56, la luna si leva alle 22.51 e tramonta alle 7.08. A Treviso, la campana della Torre del Comune annuncia l'avvicinarsi delle truppe italiane. La popolazione rimane sconcertata e non sa se accoglierli o resistere. Alle 2 del pomeriggio entra in città da Porta Santi 40 un drappello di cavalleggeri alla cui testa è il capitano Maniera, ma nessuno è ad accoglierli. Le previsioni per domani. Cielo sereno e poco nuvoloso, con maggiori annuvolamenti nelle ore pomeridiane sulle zone montane e pedemontane. Precipitazioni in prevalenza assenti in pianura e fino alle ore centrali. In seguito probabilità in aumento fino a medio-bassa in montagna e localmente inserata anche in pianura per piovaschi, rovesci e locali temporali. Temperature minime in aumento in pianura, stazionari e in locale diminuzione in montagna. Massime pressoché stazionari e in locale variazione. Venti in quota moderati dai settori nord-occidentali, nelle valli variabili a prevalente regime di brezza. In pianura deboli o moderati, da nord-est fino alla mattina e dalla sera, per il resto deboli variabili a regime di brezza lungo la costa.